Bentornati a Turbolinga. Oggi impareremo i saluti di base. Ciao, come stai oggi? I'm doing well. How about you? Io sto bene. E tu? I am good. But I've been very busy. Sono buono, ma sono stato molto occupato. I haven't seen you for a while. Non ti vedo da un po'. I've had a lot of work to do lately. Ho avuto molto lavoro da fare ultimamente. Me too. I've been taking a course in Italian. Anche io, sto seguendo un corso di italiano. We should have coffee sometime. Dovremmo prendere un caffè qualche volta. That would be nice. I'd enjoy that. Sarebbe carino. Mi farebbe piacere. Sounds good. Let's do that next week. Sembra una buona cosa. Facciamolo la prossima settimana. I'll call you to set up a time. Ti chiamerò per fissare un orario. Here comes my cousin Sarah. Ecco che arriva mia cugina Sarah. Have you met her before? L'hai incontrata prima? No, I don't think I've met Sarah. No, non credo di aver incontrato Sarah. Let me introduce you to her. Lascia che te la presenti. Sarah, this is my friend Matteo. It's nice to meet you. Che piacere incontrarla. How long have you known each other? We've been friends for many years. Siamo amici da molti anni. We used to go to school together. Andavamo a scuola insieme. You should join us for coffee next week. Dovresti unirti a noi per un caffè la prossima settimana. Excellent. But I've got to go now. Goodbye. Arrivederci. Hi. How are you today? Ciao. Come stai oggi? I'm doing well. How about you? Io sto bene. E tu? I am good. But I've been very busy. Sono buono. Ma sono stato molto occupato. I haven't seen you for a while. Non ti vedo da un po'. I've had a lot of work to do lately. Ho avuto molto lavoro da fare ultimamente. Me too. I've been taking a course in Italian. Anche io, sto seguendo un corso di italiano. Dovremo prendere un caffè qualche volta. That would be nice. I'd enjoy that. Sarebbe carino. Mi farebbe piacere. Sounds good. Let's do that next week. Sembra una buona cosa. Facciamolo la prossima settimana. I'll call you to set up a time. Ti chiamerò per fissare un orario. Here comes my cousin Sarah. Ecco che arriva mia cugina Sarah. Have you met her before? L'hai incontrata prima? No. I don't think I've met Sarah. No. Non credo di aver incontrato Sarah. Let me introduce you to her. Lascia che te la presenti. Sara, questo è il mio amico Matteo. It's nice to meet you. Che piacere incontrarla. Da quanto vi conoscete? We've been friends for many years. Siamo amici da molti anni. We used to go to school together. Andavamo a scuola insieme. You should join us for coffee next week. Dovresti unirti a noi per un caffè la prossima settimana. Excellent. But I've got to go now. Eccellente. Ma ora devo andare. Goodbye. Arrivederci. Dovresti un po' d'azzardo's. Helloo. What do I do? Helloo. No, no.